Grazie a tutti. Per ragioni professionali delle carte deontologiche dei giornalisti e i documenti e le linee guida che sono contenuti in questo saggio mi hanno abbastanza impressionato per coerenza, pulizia, leggibilità, funzionalità. Io credo che siano più accurate delle tante carte che noi giornalisti abbiamo approvato soprattutto negli ultimi 10-15 anni. Devo dire con risultati poi in termini di vigilanza, sorveglianza e sanzioni da parte degli ordini a mio avviso insufficienti. Però perché dico questo? Perché sono linee guida che possono avere un'utilità pratica che mi ha colpito. Tanto che mi domando, è la prima osservazione interrogativa che poi vorrei rivolgere dei 3-4 che mi preverebbe girare a, credo, tanti autori presenti in sala di questo volume, riguarda gli effetti, gli esiti di queste carte nella loro sfera dimensione sanzionatoria. Perché vi dico questo? Perché noi giornalisti conosciamo poco le carte deontologiche che riguardano la nostra professione e soprattutto le conoscono poco le generazioni più avanti negli anni, perché non si sono formate con quei documenti, non conoscono quelle norme, non conoscono le sanzioni che colpiscono la violazione di tanti aspetti del fare giornalismo e fare soprattutto cronaca perché poi mi sembra uno degli aspetti più trattati. Quindi io spero che abbia dei risultati, degli effetti e degli esiti migliori di quelli che ha avuto nel campo giornalistico. Il secondo punto di natura più generale che mi ha colpito del saggio è quel tentativo, ma lo diceva la Presidente Zaccaria e lo dice nel saggio introduttivo, è quel tentativo di interazione con le altre professioni della comunità, con i giornalisti, con i magistrati e soprattutto io direi che nel momento in cui c'è il confronto, incontro, in giudizio e nei mass media. Noi poco sappiamo, credo almeno una parte del mondo giornalistico, del vostro lavoro, dell'avanzare scientifico nel vostro campo, delle evidenze scientifiche, non a caso su questo poi dirò una parola, colpiscono i capitoli che riguardano la presenza del minore in giudizio, perché lì c'è un conflitto che la Presidente Zaccaria sottolinea fra la capacità giuridica, soprattutto del minore di 12 anni, e l'ascolto del minore di 12 anni. Poi il professor Dazzi mi ha colpito perché criticava l'espressione capacità di discernimento e devo dire che da non addetto ai lavori le pagine sulla capacità di discernimento mi hanno sembrate bellissime, insomma quindi ho sbagliato, però in questo saggio mi hanno sembrato particolarmente profonde, ma insomma appunto con uno sguardo da non tecnico. E il secondo capitolo che devo dire mi ha colpito in particolar modo e non mi faccia velo, non credo mi faccia velo, l'amicizia che mi lega a Vittorio è il capitolo sulle linee guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone lesbiche, gay e bisessuali di Lingiardi e Nardelli. Perché dico questo? Perché è un capitolo che ovviamente parla a voi, però parla moltissimo alla cultura politica e mediatica di questo paese. È un capitolo che andrebbe a mio avviso pubblicato e reso obbligatorio nelle redazioni e nelle scuole, perché è un capitolo, io penso soprattutto a quel passaggio sulla necessità di conoscere le ricerche sull'omogenitorialità, perché questo è forse il campo in cui l'ignoranza è più padrona, ma persino nelle redazioni più avvertite diciamo così. Leggendo gli studi anglosassoni e tutti i riferimenti che fanno Vittorio e Nicola Nardelli, debbo dire che persino chi si muova con un minimo di familiarità in questo campo non può non sobbalzare e rendersi conto di quanto sia fuorviante l'orientamento nel dibattito pubblico italiano. Perché su questo credo che una parola vada detta e soprattutto il dibattito pubblico vada reso più maturo attraverso interventi vostri purtroppo anche sui mass media. Vittorio lo fa, lo fa spesso a Radio 3 che ahimè è il posto dove lavoro, ma non è che sia proprio ascoltatissima, diciamo così, diciamo ascoltata ma in maniera un po' marginale, non entra nel dibattito più ampio e questo secondo me è un grande peccato. Non a caso le parole conclusive del saggio di Vittorio e di Nardelli o se non quelle conclusive, senz'altro la conclusione di un paragrafo particolarmente denso, sono le seguenti che mi hanno colpito proprio per il contatto e il rapporto con la cultura politica e mediatica di questo paese fino a quando la politica e la società non avranno recepito questi argomenti, le persone gay e lesbiche subiranno discriminazioni in dimensioni fondamentali del ciclo vitale, la coppia e la genitorialità. Il compito degli psicologi sarà quello di ascoltarle e aiutarle, comprendendo le loro difficoltà e favorendo la resilienza. Questo mi permette di fare il passaggio ulteriore, cioè quello teoricamente più coerente con il mestiere che faccio, ovvero sia l'analisi del capitolo sulle linee guida, sull'etica della professione e sulla comunicazione dei mass media, con particolare riferimento all'ambito della cronaca. Non a caso sia la Presidente sia il professor Dazzi dicevano che questo è un saggio che tiene conto, in qualche modo cammina in simultaneità con l'attualità, con la cronaca, con tanti dei casi che hanno colpito l'opinione pubblica in questi ultimi mesi, se non in questi ultimi anni. Poi mi permetto delle considerazioni invece sulla presenza degli psicologi sui media e anche qui tenterò di fare un discorso di metodo e di merito, di forma e di sostanza, che poi in sostanza vuol dire la vostra presenza sui giornali, in televisione, alla radio. Anzitutto c'è un'affermazione in limine a quel saggio in particolare che mi sembra molto importante, perché viene detto che è sempre più frequente la richiesta da parte dei media di voci di psicologi e di questa richiesta viene data l'interpretazione più benevola, cioè è una richiesta che è il segno della nostra crescente importanza nella società italiana. Non lo so se sia così francamente, non lo so se invece siamo sintomi di uno smarrimento che cerca appunto ancor e appigli nella vostra categoria o in altre categorie, però credo che sia un interrogativo che bisogna provare almeno ad affrontare. Debo dire che io in rete ho trovato diversi blog, forum molto sopraccigliosi o surcigliosi rispetto alla vostra presenza sui media, nel senso che alcuni in maniera, a mio avviso superficiale, altri in maniera seria dicono, ci capita troppo spesso di vedere in televisione o sui media psicologi barra cialtroni, cioè psicologi che peccano di banalizzazioni, narcisismi, confusioni teoriche e qui io credo che andrebbe fatta una distinzione che peraltro nell'articolo, nel saggio viene fatta tra i vari media, televisione, giornali e radio e all'interno dei vari media tra il format per usare un termine tecnico, nel senso che una cosa è parlare in un telegiornale, una cosa è parlare in una trasmissione specialistica, una cosa è parlare in un contenitore, diciamo così. Io lo so per avere conoscenti e parenti che fanno il vostro lavoro che ogni volta l'incontro con un medium di massa in particolare delicato e forse, perché ho trovato anche questa espressione, strutturalmente antitetico ai tempi e al dialogo o alla profondità che vuole la vostra disciplina, la televisione ovviamente, è un incontro tragico, nel senso che voi vi sentite spesso violentati e lo capisco da giornalista, soprattutto nei telegiornali perché a fronte di una dichiarazione vostra che dura 3, 4, 5, 10 minuti vi ritrovate un passaggio di 30 secondi che spesso violenta il vostro pensiero, accade a tutte le categorie, ma quando il campo è così delicato penso che sia più grave. Debo dire che poi, ma è una distinzione che viene fatta all'interno di questo saggio, c'è la differenza fra lo psicologo chiamato in veste di tecnico, di specialista, quindi in trasmissioni diciamo lato senso divulgative e credo che quello sia un ruolo, un luogo in cui possiate stare un po' più sereni, diciamo così, perché avete più tempo per distendere il vostro pensiero. E infine il ruolo che più viene criticato nei forum, nei blog, cioè quello diciamo dello psicologo televisivo, quelli più presenti in televisione, che spesso sono invece accademici di gran rango, diciamo così, e non dicono neppure banalità. E tuttavia spesso il loro pensiero, le loro riflessioni vengono piegati alla grammatica televisiva, quello è un po' inesorabile come meccanismo. È una sfida che io credo vada affrontata, data, fatta, perché, questo lo dico senza piagerie nei vostri confronti, io credo che i mass media, il che significa il filtro principale per la formazione dell'opinione pubblica, abbiano bisogno di voi. Ora io questo lo dico e chiudo con la mia esperienza radiofonica. Io ho lavorato in una trasmissione di Radio 1 che preparavamo il giorno prima e quindi sapendo l'argomento che avremmo trattato il giorno dopo potrevamo in qualche modo preparare lo psicologo, lo psicanalista, lo psichiatra che invitavamo in trasmissione dicendogli domani parleremo di questo, le vorremmo rivolgere le seguenti domande e quindi c'era un minimo di negoziato serio fra noi e voi. Nella trasmissione che faccio adesso, pur essendo il contesto, la cornice Radio 3, credo la più seria o il più serio dei mezzi di comunicazione di massa del nostro paese, quelli pubblici se non altro, si fa al mattino stesso, noi la basiamo sulle telefonate che arrivano a prima pagina, che è una rassegna stampa e quindi abbiamo poco meno di un'ora per preparare la trasmissione sull'argomento che viene selezionato in base alle telefonate degli ascoltatori. Devo dire che il grosso degli psicologi, degli psicanalisti e degli psichiatri che chiamiamo, anzi io tendo quasi per un pregiudizio negativo nei confronti dei mezzi di convenzione di massa a dire chi accetta è il meno serio, chi rifiuta è il più serio, però è un errore da parte mia, penso, perché la maggior parte sono in seduta, quindi ti dicono non possono intervenire, devo dire, però perché dico che è una sfida che va accettata? Perché se non lo dite voi, se non provate voi a fare chiarezza sugli equivoci e le ignoranze, soprattutto su campi delicati come quello che affronta, devo dire, uso questo avverbio coraggiosamente Vittorio, chi lo dice? Chi vi surroga? Qual è la delega? Cioè il rischio forse è persino peggiore, quindi in ultima analisi la preghiera, l'appello che mi sento di fare è quello se non altro al tentativo di instaurare un dialogo, cioè non sottrarsi, negoziare la serietà, ecco credo che questa sia l'espressione più seria, negoziare la serietà imporre il vostro punto di vista, perché è capitato anche a me di essere ospite in contesti radiofonici o televisivi e sentirmi violentato sinceramente e tuttavia secondo me un negoziato è possibile, bisogna scegliere i contenitori, questa non è una cosa banale, cioè forse di fronte a certe offerte bisognerebbe dire no e ultima notazione, questa riguarda la cronaca, diciamo la mappa dei mass media, se ci pensate vent'anni fa o trent'anni fa quando i media di massa erano pochi, venivano invitati soprattutto in telegiornali pochi accademici di grande nome, oggi con la moltiplicazione di canali c'è un po' di tutto, cioè purtroppo vengono accolti gli inviti anche da parte di cretemo professionisti sguarniti o che commettono svarioni, incertezze, depistano, quindi in qualche modo il mio è un invito alla negoziazione della serietà e alla cautela. Mi interessava questo discorso del territorio rispetto appunto agli eventuali TSO che vengono fatti e vengono fatti TSO anche per adolescenti insieme ad adulti, quindi ci sono molte cose da discutere, perché ritengo che è stata una mia lotta fatta già nel 1980 perché questa avvenisse e quindi che non si creassero poi nuovamente di piccoli manicomi. quindi io ovviamente vi ringrazio moltissimo, non so se ho risposto, ah no forse sulla discrezionalità delle sanzioni e questo è anche un altro fatto, cioè che la nostra normativa consente, anzi stabilisce, noi siamo credo l'unico ordine regionale degli psicologi che abbiamo una commissione deontologica, nella commissione deontologica fanno parte un avvocato e un magistrato e solo il coordinatore è un consigliere e gli altri sono esterni, però questi hanno funzione soltanto istruttoria e poi spetta invece proprio al consiglio dell'ordine, a discrezione del consiglio dell'ordine poter tirar fuori le sanzioni, in qualche modo sanzionare e abbiamo ovviamente segnalazioni, sì sì sì, abbiamo segnalazioni in tal senso, quindi richiediamo spesso le trasmissioni RAI e poi procediamo a secondo dei casi. Grazie ancora. Grazie a tutti.